Buonasera a tutti, stasera vi abbiamo fatto partecipare a questo spettacolo nel salone parrocchiale per trascorrere il giorno della pentolaccia insieme. Il nostro caro parroco Don Gigi, dopo otto mesi di pausa, ha deciso di scrivere un'altra bella commedia. Immediatamente i confratelli non si sono tirati indietro per prepararla, con grande fatica e invegno. Infatti voglio ricordare che nessuno di loro è un attore professionista, quindi vogliate scusarli se troverete qualche imperfezione. La rappresentazione triatale che state per vedere è allegra, gioiosa e divertente, ma soprattutto è attuale perché è incentrata su uno dei più grandi problemi della nostra società, la droga. Infatti il disagio e la voglia di evasione dei giovani trovano spesso sfogo nella droga, che porta danni tremende a questi ragazzi, spesso non consapevoli dei pericoli a cui vanno incontro. Un mondo quello della droga che prima illudre, attrae, accecca e poi spietatamente distrugge. Oggigiorno purtroppo i giovani vengono addirittura incoraggiati all'uso della droga da cantanti, personaggi famosi, da mass media, facendola passare come una moda. Una società, la nostra, che non crede più nei valori, quelli autentici, quelli da elogiare perché puri e genuini. Una società annoiata. Ed è tutto qui il punto, nella noia. Ecco, allora noi oggi vi vogliamo far divertire, far uscire da quella routine quotidiana per farvi trascorrere una serata diversa e all'insegna del carnevale. Signori e signori di Don Gigi Melis, filo mio e drogau. Grazie. 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 ora tu con le uvelli che puoi pagare dentro di ora senza punterare pu 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 la luce che è su spriglio o ci appago un Ferdinando tanto sommato ci stupo a questo foro che è il schidone accanto a me sta un paio di dito la giustizia di bruciata il contatto cazzo non è manco sauro in morte che ha posto chi è stato su schidone non posso andare manco avanti che hanno entrato a dire tutti i commenti questo è il bestiollo del mondo senza mai cosa lo dare questo è una bianca, è una grande confianza, l'amicizia si è stagionata e ora si guarda come te volerà, anzi fino a me questo è uno scroppo ambudescio, non faccio il peso, se non si porta fuori un pizzese a mezza allora ti mi vado in cipratta la bussacca, ora sei grugioso a proposito cosa fai? se prendiamo da Pupio, ma cercherebbe Luciano con prende i dosi eh ma io mi dico che devi fare una vita, come è quello? ecco Pai, io voglio visitare Mimmi o Passavezza ma di Gustavezza, di Gustavezza non venguti no Gustavezza è comprato tutto il mio bello e io non vado a vedere cosa è Gustavardi che è tornato molto umano e sta allunghiendo e allunghiendo, e senza crozza, non sarei l'impero quando ti porta un'ante soglosso e il più lungo l'uomo di Aici viverebbe questa canna che impera del suo vicario può discutere il Napoli a prenderlo di questa crisi a mano ce l'ha detto, figlio mio, ho lo che vappiti che vappi cosa delle sostanze a commenta e questa pezza compai, te lo siano io voglio fare questa pezza a tutti te, uno muscoli c'ha, compai, tutt'è guarda la cantiglione! guarda la sperma questa pezza, questo muscoli guarda la! andate tanto, compai, roditi! a metto il capo, non lo ho tu ma abbiamo un muscoli ma abbiamo un capo più compai che di questa pezza compai, non stiamo scherzendo questo muscoli che ne ha detto, non pensi? non prendi la panacea col cello in mostra, quel聲 una delzzo, la palletere plastica, tutto stampata la tifo della cazzetta, o qui? e si, che ci puoi scaccia i posti, a metto eh si, se ci ci puoi te li faccio io, te dico ti vedi i lavori sui stracchiali, te cacca con no che ci dà le stichine dai tu, se ti dà un lato ho vittuto, la panna cazzia noi la molli che mi suoni e' salutao sopressi usata Ehi, ote, papai, ero sulla tua con tra le rega di spottere, ète! E' da cabra? E' da cabra? E' da cabra? E' da cacera? 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 Papai! Tu mo scone è morto! E' da cacera? Ai che stai l'oto? Il mustone mustei, d'acceso irritato o burro! Papai, di seguida a te dizer, il uscurezza non mostrei! Ehi, vede qui. E' noio tipo fane, muscali! sul padre Ferdinando che è famoso non fai più figli ma che è più figli ogni anno di via Rattuso o tre d'Armigianza di Muscadetto ma un uomo non ha figli se è subreddito o fai salmessa sì, noi vogliamo vedere che siamo morti di sì di sì, di sì ancora su Muscadetto e che se essi di un mera se ci scudei con la macchia sul dago e qui ci rimassa su sì ok, lo cazzo è il dago, è tutto a puntavaggio perché lo dai pari, lo cazzo io sono passendo in salita e io sono tendo che stionai del Muscadetto e del Muscadetto e non sono andato da enormi in saccardo, non si combinasse forza, a forza da subito sì, noi siamo grandi bevitori e abilatori di tanta righe lui faceva versi di vini e noi dobbiamo vini di versi come on house ma la via vini e questo Muscadetto e l'erotto voi vini di versi e noi non possiamo girare il vostro ministro denominatore perché si è sempre avvicinato su un gassabottino che è il ministro che è il ministro non so non è più di fuori nel Muscadetto ma per Musconi Muschietti e Muschietti lo cazzo è in fine Musconi? no a razza è bestie in ammella e che razza di dovevi? eh 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 vieni di susini che paviloni si comprai ma poi non stava tuffata si a piedi sui i sacri si compisano subito se non è uscito è uscito se non le pu Angli a scruvere non ce stavo non c'erano una гарion non Si sempre ti mi se tianna cosa perchè se non . eh, mi sono scusata tu eh, non ti sono veri, tu e mouie eh, non vuoi credere e caldo gioco mi ha ripetito tu e due eh, ti ha mai caricato il bacio epple, ti ha mai caricato il bacio oppa, guetta, questo è un buco e l'otto tu epple sarà sola epple, ti fa ricacchio di te mmm, questo è un gioco ah, non si è un gioco ah, non si è un gioco ah, ma buono mi ah, ma buono mi e non ci sono un po' di più e noi lo tu zanno e allora tu qua buscà? che non buscà? grazie mille i compagni e io ti ho chiesto 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 mi sono chiesto se io ti ho chiesto poi eccessiva e questa bocca volto cosa è la canteria巡ogo? perché ha andato in casa centriventuro io levo fredda lì dovecro? dai sai me tu la cosa sapete? Gesù è il gioco, a Sibiria! ora sei quanti anni ho visto il mio euro che sta andando a fare questa spesa io voglio vedere la sua giornata non ti sto cadendo? Orsi? Orsi? Wim potata? io sono io è che sto cadendo nostra signora mia che non c'è così cosa legge no uno di un mauro è il suo del mondo è il suo impero tanto mi senti vero la giudaizia uno non ci perro ma è il suo del mondo Gesù Cristo mio la giudaizia Antoli sono io la tua mogliettina ma che pechino di amore oh Dio mi senti male ora mi non andassi gente atto aspetta voi mi senti oi 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 mi senti fatto tutto a siccare Gesù Cristo mio porto il suo corpo oi oi ma tu pensi questa è una maschera che io posso comprare per il mio figlio nostro posso investire carnefale pari che il suo sindico ha un premio il prodotto corso su che si è senza maschera aspetta che il mio figlio è il suo volantino di Montonau in pranzo e municipio torrente fa questa spesa pari pari che il suo sindico ha un premio il prodotto corso su che si è senza maschera aspetta che il mio figlio è il suo volantino che si terrà il giorno 21 febbraio ascoltando percorrendo le vie dei seguenti regioni sarri geno sarri contori e sarri muscoli sarri un bambino mentre se ce lo voglio ehi si comunica che saranno premiati i carri a rigorici migliori non mancate il sindaco Ferdinando ma mi lascia vestire la maschera? ehi no io ci volevo vincere sta bello anche se questo è tutto tu pensa bene su breve non è lì Tony Bredi o Mario Bredi non è Tony Bredi non è Mario Bredi tu Bredi non è Don Gigi anche se sei del Monsignore del Monsignore che vale la cosa ti hai Don Gigi se ci fai scoperto il castello ti dirai da tutto il grasso perché non lo fai da questo è il regolamento ma partecipare sta sfilata regolamento di partecipazione al carnevale a Tricullo primo non ci sono state a Tricullo la Tricullo è un verbo è un verbo di essere e di avere non si imparano in scuola e tanto ti lo spiego io io sono la Tricullo tu sei la Tricullo elli è la Tricullo noi siamo la Tricullo a Tricullo a Tricullo a Tricullo l'amministrazione comunale dei Nuri stabilisce come primo premio al carro allegorico migliore la somma di 1000 euro di compra come secondo premio 500 euro e terzo premio 250 euro su uno a Tricullo a Tricullo secondo tutti i cittarini i cittadini che sfileranno vestiti in maschera avranno diritto a un buono che consentirà l'acquisto del necessario per un pranzo in famiglia quindi non la vediamo noi a Tricullo terzo il sindico offrirà a tutta la cittadinanza zebole a gogò a Tricullo a Tricullo a Tricullo e se enti samentolati a Uro a Tricullo a Tricullo e segamenti dei vingiadas voi mi spiego voi te che assistentavo per nessas pezzi tutta chamalottada vostro carnevale no reso tocca e se comprava eh si le pare comprare ah pu comprare cosa conosso e po vino nostro voi dirai anche tutto sai a poi comprare prima pasta del latte poi 30 bottigianni del marmellato eh 50 bottigianni di Nutella eh e 3 piscetta di gas 10 coccolini altissimo ma poi 10 coccolini ma poi 10 coccolini 3 kg su di prosciutto e 30 pacchetti di cingomma con il suo pipino e un po' cosa c'è un gomma sanno diventa il bellucco figlio nostro ecco tutto su che si comprava una ponte di gruppo una ponte una ponte una ponte una ponte una ponte mi scrive figlio nostro è sempre dolore conca tu pensa che si tratta di mannare ci devi avviare in camere sempre i libri devo ci aspettare l'otto i libri entri in una borsa a mano e con questa borsa si può provare tutte le scalle grazie e come te lo sai figlio mio ci devi entrare in conca l'otto i libri poi se sei pacificio di conca mi schienetto allora tranquilla che i libri non risposta in conca in questi posti portate quattro i due e non rispondi ogni attimo allora tranquilla eh mi schienetto ho bisogno un po' di sicuro dopo ora ho bisogno di un'ansia legge e poi ho bisogno adesso ho bisogno di una mamma di una sola insomma ed è quando via succede cosa manda ho detto non riuscivo è una speciale legge che mi è oh adesso questo mi è non c'è barra che lega la terra non vedi la maraca non c'è non c'è un po' di arroga il deserto ho saputo se non lo senta a cacciare eh madonna non c'è non c'è un po' di non c'è un po' di 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 e penso che ti fa sapere sia da tutto il corpo su 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 e se su un po' di un po' di un po' di buongiorno stai stai e ti spanno e ti spanno fateci portare a loro un punto con la mia birra e se non ti accorce non ti accorce non ti chiede la roca che è un caro eeeh sei venuto veloce sto cara non mi asco che vi vi e sa gente che non vi non mi fa prendere il tuo penne forse si ci sono veri di so non mi fa vi vieni io ho in pizze a mezzo e se mi asco e se la salto qualche bambino assicura poi un sacco di detevezza e tutta cosa fai ahhh bustevo tanto papà mai ti spazio le tante con me che bustevo e tu fai non è che i mori dell'intenzione si fa a fare sapezzatura man mano che cogli ma che non fai la cosa che ci conta a me che scherzi non collections ma lo slo il 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 Oh, questo è un po' E' un sacco, non è salato E' un favore, favorevole Favorevole E' un po' E' un po' Oh, oh, oh Spero questo mondo magnifico, fantastico, però mare di Milano è un occeo di ferro, però scenari sia peschi. E tu, mio, a bene di te, ho il terrore, dove è capitato, tu c'è un martello di Santa Maria. Quella montagna d'oro, frati sterminati di Smeraldi, colline di Diaspro, piante di cristallo, confermetti della magistra. Oltre signora, tu sei a Mattia. Bellissimi tutti, bello e lucente, bello. Bello mio, non eri sti con il suo scuolo, il tutto che c'è di mia nana sull'educazione. C'era detto, finché con un luogo di verità, non c'è spazio del pitavista. Ma perché ne è questa motocicletta che ti ha investito? tanto cristallo mio, aiutare questo povero cristiano. Vedi di noi, vado a guardare. I cittadini intelligenti, su cui potessi ascoltare, e ora? E io ti ammala lì a legge, a farlo che ti ha toccato. Io vedo tutto luminoso. I dolori di faccissimi. Vedo sedie d'oro, tavoli di argentati, mobili lucenti. E' questo che ti ha sempre detto, se noi, non mi esce. Io non ci ho portato nuda, filo mio. E' esatto. Io non mi faccio, ma non è la mia nana. Io non mi ammala, ma mi mi esce una disgrazia a tutti. Voi, Piri, se non è capato, non mi porti le ferite, io! Il corpo non è sensibile di te indipare i colpi. Filo mio, Su B.P. Su Frora e mamma. Che ti crei grazie che il D.P. sta a macchiare? E' un tarrito a Degascia. Salva i denti. Dovrei da posto il suggerimento. C'era detto, ai 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 ai. Non fai, non fai. E' questo blanco che torna così. E' questo è il testo che c'è di coca giù qui. E' questo è il testo che c'è di coca giù qui. C'è il casello che c'è di brio. Tanti c'è non è nuda su di sei capitano. Tanti più tanti frasti in mano. Forza. E' un rischio. E' un mio sposo a castello. E' un rischio. Ma bene di te. Dio Dio, sto portacca a ventura. Pari, se non hai come questa caffettina salvo. Vediamo che morietta con la fuoco prima. Non finito con la chiesta con. Pari, io mi sento benissimo. Mi sento fortissimo. Eh? Sento il fuoco scorrere nelle vere. Nessuno mi potrebbe vincere. I miei muscoli sono d'acciaio. e vi voglio subito dare una prova. E' un rischio. Tu sei ammacchiavo. Capone o che cosa sei ammacchiavo? Oh, il terror è diventato il macchio furioso. E' un rischio. E' un rischio. E' un rischio. E' un rischio. Aspetta, babbo, che ti sollevo in aria come una pistucca di paglia. In aria, in aria, in cielo devi stare, babbo. E' un rischio. I miei muscoli. Giassiavo in carro a 70 anni su. E ho fatto ancora lavorare. E' un ciotto vicino. io mi sento un gigante, sono Sansone, mi sento Erdogan, mi sento una ciste dei muscoli d'accioio guarda qua! che parli? che parli? che parli? che parli? che parli? che parli? cura che lo fai tre mesi a se riesi un mattone o magari vieni a morirsi cura che lo fai si è un dentro è che mi sento questa a mezza e se prima c'è una sì sa zai ma quella che è la stossa che venga là vai a fecerci il dottore adesso se ne vede i miei bosti non ho il figlio che ha dissi ma se di più che due che portano l'ambulso guarda! io ti faccio la serie io ho tutto su la schia di prima sono di prima state la sua riguetta su base ti stecca mette la mano ti stecca non vengo ma eh? oh eh sì sì c'è la verde si vetti si è tutto su là è il suo strappazzo che si è piccato e poi mamma si è asciugato sul sudore prima che ti indici a presto per un toro si era detto il cocchetto di mamma cocchetto di mamma eh? che ti è arrivato a scorrire le buste a stirare il radio e le visite il cocco se hai più occhi punti non è vero io non ho capito se hai più occhi punti non è vero tu sei vero oh il caro scopi mio bello ma la stiamo permesso si può? permesso? si può? avanti avanti permesso? ma scusate mi è venuto in un periodo in un certo signore servesto servesto ma comunque è venuto per segnalare un caso urgente è qui che viene il signor frattinando papà e poi se riesce a vedere numero 13 si 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 dove è il malatto? diamo una guardatina a noi al povero paziente poi arriverà anche il medico condotto dottor gaspare il coletti stava visitando il malatto in ambulatorio appena si disimpegna sarà qui me che non si dica e se no è un malattino c'è da dentro visitate più bene dottoressa scusi signora e io e nella mia collega siamo dottoresse che tal cosa è vero? e siamo semplicemente infermiere siamo le infermiere del dottor coletti che a momenti sarà qui e lei il padre di questo giovanotto? si si e come si sente il figlio? ma aici aici su trallallero e su trallallà allora sta benissimo perché sta tra due signorine io infatti mi chiamo Lilli trallallera e la mia collega Gilla di cognome fa trallallà e la mia collega io ce che si sente che ho appena più per penso io come Ma scusi signora, non volevamo mancare di rispetto al suo figlio, noi non siamo mica senza umanità, però lo stanno vivendo per favorire l'ottimismo e la speranza che tutto si risolva presto e in ostino. E poi la stessa questione sono avanti e controlla ieri sono malai, però signorina è stata l'allera, ho commento senza reali, non hai attenzione, perché si è in scena su malai dove si è saltato su, se si è riuscita sui figli che vuoi fare il pizzo, se si è scaricita sull'allera e sull'allà, a me mi è toccato la mano, non è forza il busto. Controlliamo prima gli occhi, vieni Gilla, dà una mano, solleva bene le palpebre, le sposti per favore. E per bacco, la cosa è chiara, guarda la bava che ti gola dalla bocca, c'è un bel pesce, chi va la... Cosa, che sta? Non starai pensando a quello che ho pensato a mio? Cosa, che questo giovanotto, dico questo giovanotto, si droga, assomente una mescalina, una droga che trasferisce il tossicodipendente in un mondo fantastico, magico, colorato e pieno di luce. Signor Ferdilando, signora Potenza, mi dispiace dirvelo, capisco che per voi la notizia è scioccante, ma vostro figlio è un drogato. Vero Gilla, certo Gilla, che mi ha preghiate. Appendiamo, dottor Fonetti, vediamo se conferma o meno la diagnosi fatta da noi infermiere, anzi, se mi vado a vedere si sta arrivando. Non ci faccia, non ci faccia, non ci faccia, non ci faccia. Oh, è stata disgrazia e legge che mi fa un domenico, non ci faccia, non ci faccia, non ci faccia. Io non mi trovo, ti accade, grazie, non ci faccia io, nostra signora è senza lui, da un rapido mio sano come te fri, di chi non mi ca in me. Attra una peristruzione. Signora è stata Endesa, per iscriare la mia sagge se resta del caullo? Χrono Saints, grazie. Poi sono,'C itости la cima insieme a curva di California. N Integraliamo, sui la astra della evoluzione. Non ciiovassi, la distruzione. Non ci faccia io, per iscriare la mia lagge la cravo, la chi parla di kamu. A two nazare, questo è una miglima della med e aveva l'isci di chi ne è che aveva usato la droga per lo mio che la ciappu lupica mi susa sa molle suzzurra degli inquenti vudeci anche arrovinava per lo mio non aveva la sciamola doveva tutta la guida e tarroli tarroli cosa sono queste urla? cosa c'è da piangere? cos'è questa cosa Nazio? è entrato in casa un medico che fa miracoli che guarisce tutte le malattie il genere della salute la salute della sanità voi dovete ridere felicità felicità e te ci vai questo macchio un demonio? cosa è questo che ha usato la droga per lo mio? vai se mi ciappu ora e parliamo di questa droga e la mazzucca se ne discutono sull'orecchino che è morto da un sorriga Mardinando, oi tarroli nessuno risponde non è venuto con una borsa carica da una donna mia ma non c'è mai la ciappu lupi lupi a parola se faccia due soldi di una stessa a parola se Mardinando, calma di ma dov'è che è il suo dottore? è tanto in legge a tarroli è tanto a passare i vicini calma di sì, i coppai io fossero un dottore san morso ero scienziato ero in america ma io non c'è di che c'è tarrazza in finestra che morta va? fu in america poi morisci di Scallebrano non si chiedeva ma i peschi assenti Scallebrano? ma non fu da Milano Milano c'è da 3K morisci di Scallebrano io fossero i coppai per il suo sconto se vuoi Milano è più che ci sono delle due cose a donna parlate rispetto al vostro santuano ma devo sapere se chi è quello non ti va non ti va una strempata che ti dà la faccia grazie vanno lecchia che le pensiamo a me non sempre c'è sguardo mi sembra che il giovane da tempo tossicò di bene è un autentico drogato è un autentico drogato lo aveva mai detto lui lui vive in un mondo fatto di luci di colori ma il suo non è un mondo che esiste nella realtà esiste solo nella sua fantasia la sua non è vita ma è morte la sua non è esistenza ma è solo sogno con i miei occhi aperti noi dobbiamo tirarlo fuori da questo barco e ci penso io non si prego grazie io ho qui con me nella borsa tante maschere di carne una più orribile dell'altra maschere così spaventose da farvi finire l'uomo più coraggioso e allora lo dite tutti anche voi tra l'anera e tra l'anera e anche lei signora possente signor Pio di Nando su ora e lei signor Serpesto vado a vedere se sta passando qualcuno in strada bravo a vedi che mi ciappone a colpa non mi compagno non mi compagno ma da che la voglio fare con chiudica facciola ah su dottori chiesti se un terra morto non basta un trago no che ha mi becca a morto ti fa più che ha visto che non hai no se un terra morto no ma è vero non ti dobbiamo è morta vero se l'ha vero non ti dobbiamo e non faccia l'uccello del mare augurio allora vi dicevo ho qui tante maschere distribuitene per favore sì sì si fa sole a mio ordine do fretta indossarle può svegliere il malato qui presente con uno schiaffo terapeutico e se uno schiaffo non basterà gliene daremo un secondo e anche un terzo il giovane al suo risveglio vedendo fuori abbruttiti da queste orrende maschere si sveglierà e lancerà un urlo potente un urlo liberatorio e sarà uscita totale dalla droga e in casa tornerà l'allegria la felicità coraggio siamo pronti non schiaffi nessun volo coraggio disporsi attorno al malato schiaffo terapeutico secondo secondo più forte il secondo si è rossa del finale mamma mamma sono nelle sensazioni autore dal lato che sei e non mio bravo bravo uccanueli ciao uccanueli puoi buon e buon sanario mi aspettate a martello allora cosa Dove avevo detto? Questi sono gli stabilanti risultati degli esami fatti da me in America, eh? Ma abbiamo una cosa a te, c'è chi ne ha che è un dottore? Viva la terza! Grazie, dottore Coletti! Ci siamo in disperaos e vi è un'acqua con voi d'altro, scusi signora. Non vi dovete preoccupare, anzi io direi che l'onore della salute di Morris e delle mie infermiere di intonare un bel muttero, mi vedete? Sovrapposite! Si si si! Ofrapposite, un terzo di mantello! Ebbene su un terremoto su hakogi e kukumeo i terreti se distrotto succedono su un terrodeo Ah! Mortwurf rockeder terminThattum e savesa charging le EVERY hopefully margine Corrono, dite di sapere! Eh, lo scopo a sapere! Eh! Senza è bravo! Pingo paio! Esattamente! Siete cussa! Custa se la bruciava, salta se la portava su un esatto! Venga a passare! 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 Applausi! Grazie! Grazie! Puglia! È un matico peore! Grazie! 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 A presto! Eccoci qua, buonasera, spero vi sia piaciuta la commedia, vogliamo ringraziare innanzitutto chi ha reso possibile tutto questo, quindi l'autore della commedia Don Gigi, andiamo alla presentazione degli attori, Ferdinando Salvatore Pinna, Potenza Gabriele Lai, Servesco Efisio Bacca, Morris, il drogato Aldo Lampis, Diricio Luigi Nulas, Perichetto e Dottor Coletti Enrico Pili, le bellissime infermiere Tiziana De Ita e Rodina Pirelli, il vecchino Antonio Murroni, ringraziamo ai microfoni Gianni Mortadelli, ringraziamo la ministra, suggeritrice Emanuela Usai, ringraziamo l'amministrazione comunale che ci ha prestato i microfoni, perché non ce l'abbiamo ancora, grazie, ringraziamo tutti voi che siete venuti e avete partecipato, grazie, un altro applauso a Don Gigi, non lo facciamo? Noi vi diamo l'appuntamento a presto, buona serata, ah ecco, hanno scritto qualche buttetto, quindi adesso ve lo canterà chi? Non lo so, Gabriele, ecco aspettate, finiamo in bellezza, mi devo leggere perché non mi ne ricordo, allora, tutti insieme, tra lalala 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 l per di sagu scienziat e se prena sasala e nomi d'ugreia che c'è San Medus genti e re sa idamia che c'è genti importanti non reso se istrangio su deonia e dadi e piticus e manno su e a tutti i presenti si devono ringraziai contento su e sano su torre usa recitai la la le la... 4 anni Grazie.